Mattia De Sciglio, benvenuto alla Juventus. Inevitabile cominciare chiedendoti le tue emozioni. Sicuramente sono molto emozionato perché arrivo in una squadra top sia in Italia che europea, quindi per me è un onore essere qui e farò di tutto per ripagare la fiducia della società. Un po' mi hai anticipato la risposta, ti chiedo quali sono i tuoi obiettivi in questa avventura bianconera che sta iniziando? Sicuramente il primo sarà quello di riuscire a entrare all'interno del gruppo, della squadra, a guadagnarmi il rispetto dei compagni perché penso sia fondamentale e poi attraverso quello, appunto come ho già detto, farò il massimo per ripagare la fiducia della società per dimostrare che posso stare in questo gruppo e per guadagnarmi anche la fiducia e il sostegno dei tifosi. A proposito dei tifosi, come ti dovranno chiamare i tifosi e anche i tuoi compagni? Qual è il tuo soprannome? Non ne ho uno in particolare, diciamo che mi chiamano sempre Desci che sarebbe un po' l'abbreviazione del mio cognome, quindi è un po' più facile. E allora benvenuto Desci. Grazie mille, grazie a tutti.